Esistono anche i cartoni animati, che piacciono dato ai bambini, ma anche a noi adulti. Io sono la voce, ormai da parecchi anni, di Gatto Silvestro, di Pippo della Disney, ho doppiato Timon... E allora lui parla sempre in questo modo, sempre in modo cattivo! E allora quando... Ah no, un momento, un momento, fatemi capire bene, se io non fossi lui e lui non fosse me, ma allora quello scorgione di pumba si è mangiato tutti i miei vermi! Faccio questo mestiere da quando ero bambino, ho cominciato come attore, ho sempre fatto l'attore, sono un attore, per fare i doppiatori bisogna essere attori, attori due volte... Dice vabbè, mettici il sottotitolo, il sottotitolo è faticoso da seguire. Questo al cinema, figurati in tv, con la gente che neanche ci vede bene. E poi anche questa storia del sottotitolo, dipende dal film. Ci sono film con delle sceneggiature lunghissime, dove le cose che vengono dette non si possono riscrivere in quelle due righe del sottotitolo. A meno che uno non riempia lo schermo di parole, quelle due righe non ti danno il senso compiuto della sceneggiatura. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avete vissuto a partire da oggi per avere un'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà.